Ciao, bentornati sul canale. Quest'oggi abbiamo una Cockney Cab 2, praticamente il taxi inglese. Qua adesso in onore alla regina Elisabetta che ci ha lasciato, dedichiamo a lei questa macchinina con la bandiera, con l'Union Jack, la bandiera inglese sulla fiancata, quindi una classica macchina inglese, un po' modificata. Questa l'abbiamo vista in tante versioni e quest'anno l'hanno fatta con questa colorazione. Diciamo hanno un po' anticipato quello che è il tema attuale, che si parla tutti adesso dell'Inghilterra, perché appunto la regina ci ha lasciato dopo 70 anni di regno. Quindi questa è una Hot Wheels Metro 2022, la 102 di 250, questa è la versione proprio con la bandiera inglese. Guardate qua, che modello! Dai, ci vediamo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci vedremo con i prossimi unboxing e questa è il taxi inglese con la Union Jack.